Finisce un anno importante il 2023 per la Virtus e ne apre un altro il 2024 che sarà sicuramente un anno altrettanto importante. Dunque è tempo di bilanci e i bilanci li facciamo con la dirigenza della società Bianca Azzurra, infatti siamo in compagnia di Marco De Pinto, vicepresidente della Virtus, che anno è stato questo qui il 2023? Buonasera a tutti, è stato un anno molto intenso, un anno pieno e ricco di soddisfazioni a partire dalla promozione in questo nuovo campionato a questo avvio stratosferico della nostra squadra. Un anno pieno di soddisfazioni anche a livello mini basket, di crescita, sono partiti i campionati giovanili con l'Under 15, abbiamo una di due, una di tre che stanno andando benissimo, insomma è stato un anno soddisfacente da ricordare. Ecco, se la promozione in Serie B Interregionale possiamo dire che l'avevamo un attimo ammortizzata, ma questa testa della classifica, questo risultato che dicevi tu stesso stratosferico, voi come società vi aspettavate questo risultato? Diciamo che non ci sorprende, noi abbiamo iniziato l'anno scorso, e parlo proprio di tutta la stagione passata, con un progetto, un progetto importante, un progetto che adesso sta dando i primi veri frutti. La promozione dell'anno scorso l'abbiamo fortemente voluta, ma è stato tutto costruito intorno a questa promozione ed era fondamentale per noi salire l'anno scorso. Quello che sta succedendo quest'anno, con l'inizio del campionato in questo modo, non ci sorprende perché sono stati fatti dei grossi passi in avanti dal punto di vista proprio di organizzazione della società. Per cui ognuno ha lavorato nel suo ruolo, nel migliore dei modi, i risultati si vedono, sono questi. Ovviamente bisogna continuare così, ma soprattutto perché adesso abbiamo lavorato sull'immagine e sul cercare di dare stabilità alla società. Adesso bisogna affrontare il futuro con i nuovi progetti e ce ne sono molti e molto importanti, poi più in là ne parleremo. Grazie mille a Marco De Pinto, faccio anche io i miei auguri di Buon Natale e di Feliciano. Colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti i nostri tifosi, a tutti coloro che ci seguono, a voi, allo staff, ai giocatori. Grazie, Buon Natale a tutti.